a nome di tutta Radio Roma Futura punto it noi ci sentiamo lunedì eh lunedì di Pasquetta la sera alle ventuno perché? Perché c'è una importante trasmissione della Pegna Blaugrana Roma una doppia questa settimana andiamo in onda due volte come a parlare del Barza perché andremo in onda ovviamente lunedì eh proprio perché eh dopo per commentare la partita di domani tra Salta Vigo e Barza e poi giovedì giovedì pomeriggio perché perché il Barza come le altre squadre spagnole si incontreranno mercoledì tra mercoledì martedì e mercoledì per il turno infrasettimanale della Liga Espagnola un augurio a tutti di una buona Pasqua arrivederci e buon amigato Tom a a a Grazie a tutti. 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 Tutti quanti in attesa non è ancora successo, ed è questo il momento, diventare una mossa vincente. Grazie a tutti. ... 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 Ciao